Milioni di euro di soldi pubblici che non hanno prodotto assolutamente niente, opere abbandonate a se stesse, incompiute, in mano ai vandali e al lento passare del tempo. Dopo tanti proclami e l'illusione di un rilancio che aveva generato entusiasmo da parte dei suoi residenti, l'argentiera viene letteralmente accantonata dall'amministrazione comunale di Sassari. L'ex borgata mineraria ha visto transitare i politici locali solo nel periodo pre-elettorale. L'idea che sia stata utilizzata nel recente mandato solo come strumento propagandistico sembra trovare riscontri concreti. Un accanito comitato sostenuto dagli attivisti del Movimento 5 Stelle aveva ricacciato indietro gli amministratori comunali alla ricerca di voti e la guardia su questo problema viene tenuta alta. Il caso Argentiera viene oggi riproposto dai consiglieri comunali Antonio Cardin, capogruppo del Sdaz, e da Luigi Pisano, del gruppo misto all'opposizione. Il terzo tentativo è loro di ottenere risposte dopo le due mozioni presentate dalla consigliere di maggioranza Giampaolo Manunta, l'ultima risalente a un anno fa, approvata dal Consiglio Comunale e rimasta poi nei cassetti della Giunta, che non ha mai dato corso al piano di borgata, disattenendo gli accordi stipulati nel 2007 con la Argentiera S.P.A., che prevedevano la cessione degli edifici storici di Pozzo Podestà e Laveria, la realizzazione e sistemazione della viabilità urbana della rete idrica e fognaria, in cambio dell'approvazione di un piano particolareggiato che avrebbe portato alla creazione di nuovi servizi e alla ristrutturazione completa dell'esistente. Una clausola dell'accordo prevedeva che se i patti fossero stati disattesi, l'amministrazione sarebbe stata obbligata a pagare gli immobili ceduti a un prezzo stabilito da arbitrato che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Chi pagherà questo debito? Si domandano Cardin e Pisano. I termini sarebbero già scaduti e lo confermano le dichiarazioni del titolare dell'agentiera S.P.A., Fabio Brandimarte. Abbiamo fatto dei ricorsi, abbiamo dei ricorsi al tarpendenti. Noi abbiamo impugnato a suo tempo anche il piano paesaggistico, ma il piano paesaggistico non impediva in una località come l'argentiera di utilizzare questa area per fare nuove volumetrie. Non è vero. Non è chiaro se il comune di Sassari avrà il tempo per rimediare i gravi ritardi accumulati e un altro interrogativo sorge spontaneo. Se si andrà a elezioni anticipate, di chi sarà la responsabilità? Nella mozione i due consiglieri impegnano il sindaco e la giunta a dare risposte immediate e a convocare al più presto un incontro ufficiale con l'argentiera S.P.A. ed uno pubblico con gli abitanti della borgata.